Il punto che, don't do redo, poi se torni in sat. Sappiamo che ci fai video sempre per denunciare le truffe, ma tu non sai che abbiamo pronti detro per calunniare te, pagati in poste pay. Da Udine c'è Marco, Marco Boehm, che senza problemi, voi sai, ti fa dei video ormai, e poi lo sai, c'è pure zio Mago, che poi è blacklistato, e che non entra più, ma allora che vuoi? Non sono Emilio Fede, sono il divino in fede, e sono cazzi tuoi, se torno in video. Mio caro, sassi lo sai, Angelica, ti ha lasciato, e ora è bella più che mai. Tiro del culo, che sei costretto con quattro bambine, per fare finta di dimenticare. Sì, sappi che lo so, sei frustrato un po', perché tu non hai, non hai, non hai più schiave per te. E allora tu, vorresti Scorpioncina, non è la tua regina, dentro i cuori sai. E allora tu, ci avrai una serpente insieme, il suo nome alieno, stai attento che, vuole il potere. Ma tutto quanto per sé. Eh, sassi, sassi. Pensavi, eh, pensavi di esserti liberato di Turi Williams. Io sono con discorso dura, cato ma mi rialzo nella vita e nel web. S, non ricorda. Grazie a tutti